innanzitutto scrivete a tarta322 un mio carissimo followers che il padre aveva 3 4 volte che mi scrive io sempre penso 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 invece me l'ho sempre dimenticato quindi mi scuso con il padre è il mio followers un ragazzino di anni non lo so ma è il mio followers un grande ragazzino tarta 322 poi o ciavi di scassata wallara con cr7 o per scritti o gli uventini che non capiscono un cazzo di pallone o a wallara a wallara a wallara ma veramente come vape cosa ha fatto zero gol che ne fate video contro bappé bappé sarà walla cr7 per quello che ha fatto nella storia si bappé a 25 anni già ronata via pallone toro ha messi dove messi dove sono i messiani vedi che figura di merda che ha fatto il ricorre sbagliato che perché messi cucchiaio o travesse fuori vergogna lì non ne fate video voi voi siete ossessionati cr7 ossessionati io capisco ragazzi che io faccio pinabili ma voi siete ossessionati e soprattutto si cazzi che si cazzi peschetti che fanno i video voi siete ossessionati non capite nel pallone capito voi siete frustati avevo il fegato maccio vecchi da quando ce le sette proprio avvarcato le sole della juventus alla condinassa vi è venuta un invidia ma quella invidia quella invidia veramente atroce quando signor guaccia uno giornata grande ronaldo poi ne caio venso no ma sai messi più forte ma non capisci niente di pallone tu non capisci con me sei fallito fallimento eh che ha segnato ripeto per essere più forte di ronaldo devi fare più gol di ronaldo devi saltare più di ronaldo devi essere fisicamente più meglio di ronaldo ronaldo ora ora è finito ora sì ora sì ma no cinque anni fa no ma è finito ronaldo le punizioni batte sempre lui anche il ruggulli le punizioni batte sempre lui e prima cosa è 30 gol da io penso che lo segnavo il gol la sembra noi vanno a vedere proprio il proprio il pelo sull'uovo chi poi c'è messi che non si regge ma anche in campo dovete fare voi non lo sai cosa siete ossessionati fate i video contro messi contro un pappé oggi fallimento sia uno che l'altro tutte e due non saranno manco la gualla di ronaldo ricorderò sempre guarda eh ne già dei palloni palloni questo guarda non vi vergognate eh anche questo turam che si pesca il turam cosa ha fatto turam in questo mondiale turam zero top zero ieri pepe 41 anni e chido 26 anni ieri vabbè sull'allungo via sto cazzo chido 26 anni è normale sull'allungo è più veloce ma poi quello ci recupera 5 metri pepe pum pocala popola la stile pocala popa a terra è caduto turam avanti perché non fate perché non fate questi video capito se ossessionati turam turam zero pappé zero messi zero ora ronald è zero perché ora ora è finito capito non va turam ripeto il cr7 lo menterei lo per lo porterei in tutte le scuole del caccio mondiale con i giovanili ragazzi dovete diventare come Cereset deve essere una filosofia di vita capito ma anche il ragazzo ripeto molto di fame non sapeva mai gioco così c'è non ho quando è nato non ha avuto il dono come gli spacchini rimessi la di essere diciamo un alieno con duri allenamenti no e capabilità è arrivata è arrivata a Cereset un solo ha superato pure messi e lo dirò sempre io se mi picchio a scuola uno contro uno io mi picchio a ronald non mi picchio a messi voi siete malati perché non va perché non fa dei video contro di messi messi cucchiaio travesse fuori figura di merda perché messi potono giocare come eh si ha dei pesi ossessionati capito ripeto e fanno questi video fanno contro video viso mio video capito Cereset la come si chiama intanto fu Kiro Ferox sono la chi sbaglia alla fine Kiro Cereset segna pure il ricordo che alla fine ieri ieri la partita Cereset copporeta un piccio un cazzo ma se mi c'è stato di Bappé vici Bappé capito Kiro 39 anni Kiro 41 Cereset tra loro due diceva beh ieri ce n'ha fatto niente zero assoluto no non cercava la palla cosa ma perché in Bappé che fece per me capito quindi Cereset cinque anni fa cinque anni fa sta partita avessi vinguto già zero il tripletto Cereset ormai diciamo lo fe lo frega l'età anagrafica capito ora si deve ritirare no quattro anni fa cinque anni fa ma ripeto voi siete solo ossessionati da Cereset basta a differenza quando ci furono a domenzi a maggior parte si prescritti perché avevano proprio un fegato che Cereset veniva in Iowen no perché 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 siete malati rifrustati un capitolo tu Ram il vostro idolo zero come perché non dite queste cose fate i video ma che ha fatto Cereset una nazionale e qui si tra Cereset ragazzini che adesso sono fenomeni sono fuori classe alieni ma che cazzo dite ma che cazzo dite in questa epoca si c'era l'epoca di Cereset di Pepe Fernando Couto e Crespo De Piero tutti chi sei qua un erano non una panchina un erano ma anche convocati fate i video contro Lucazzo oh hanno fatto che hanno criticato che Cereset oddio che criticano Lucazzo no quelli no soprattutto Sponda Juventus ripeto voi siete vergognosi ma perché lo fate capito per alleccare i quattro iscritti che avete stavendo capito io con Giro e me sta all'allecchamento mi seguono 100 persone 200 persone a di cucchiuna guarda veramente capito c'è andano a fare così perché devono avere l'appoggio degli altri che bravo che bravo che bravo non capite niente di pallone niente niente vedremo poi neanche ci hanno fatto un fanno i video tipo va analizziamo la partita ieri la Francia vergognosa schifosa la Francia veramente si roba lì ora ma ci sarà Spagna che ti romperà il culo guarda caro francese chi fece la Francia ieri chi fece mi veniva il portogallo sul campo capito poi diciamo fino al sessantesimo partita noiosissima noiosissima poi ci sono state le azioni diciamo tre per parte io mi ricordo di Bruno Fernandez di Canzelo Ronaldo stesso che era per lato purtroppo l'età nagrafica l'ha preso di diciamo interno destra avrà buttato in portogallo vabbè vabbè ma ragazze le tana grafica capito ma ma sciacquatelo a bocca quando poi c'è il reset quelle simboli c'è il reset e il calcio ricordalo capito che ha fatto più di tutti che ha stati i pelefici Ronaldo pele messi tu ma la dopo che ha stati che o tiene il regolo più gol fatti nelle gare ufficiale nella storia del calcio che c'è il reset quindi sciacquatelo ma non capite niente il gollo vanno nel gollo per essere campione devi superare Ronaldo chi supera Ronaldo allora sarà campione non ne manco messi zitti quando non capite niente si deve dire se non è che parlo di Lucazzi di Duram di Messi no questo non sarà letterario qua ripeto Duram e Mbappé ora veramente manco erano ripeto manco erano convocati quando c'erano i veri campioni e perché sono nati in questo caccio moderno che ho mangiato uno su questi fenomeni fanno i fenomeni con nessuna e ora Mbappé adesso fa schifo proprio Mbappé aveva un anno che fa schifo nessuno lo dice ripeto non capite niente dei palloni capito ormai avete picchiato il vostro gomma io almeno di capire da Codice Fiscale lo cazzo non sono stati mai studi questi fenomeni ho avuto ragione ho avuto ragione ora ora all'ulto stanno criticando lo cazzo Codice Fiscale ma arriviamo la Tiger Man vediamo come questo Tiger Man di Gregorio un brutissimo giunto lì le va le va Codice Fiscale per di Gregorio capito Tiger Man la di di Gregorio ah di Gregorio ah uomo di Gregorio perché di Gregorio uomo di Gregorio ma veniamo questo uomo di Gregorio a me pare un socia di cosa da di Marchese la stessa faccia mi pare un fratello di Marchese mi pare un po' chiuso di Gregorio ma ripeto anche se io puntavo diciamo in altri in altri ambiti di portiere va bene quindi ragazzi ieri Pepe a 41 anni si è mangiato proprio sul passo si è mangiato a Turam ma ieri Pepe poi si dice proprio ci ha recuperato cinque metri proprio fa proprio l'anzianità fa acqua proprio l'anzianità ha fatto così c'è abbattuto sti bimbi minchia ieri proprio l'ha recuperato sul passo Turam un vicino cazzo ieri ma hai capito eh c'era le sette ieri parte c'era le sette un gol mangiato un bappè zero tiro poi coppo ritacco ci dice la a magnana praticamente magnana sul pallo e su due poi la punizione sul pallo va bene la punizione possiamo s'abbattere poi che c'era le sette un ricordo segnale ieri c'era le sette è vero che ho tutto l'ufficio schifo ma qualcosa in più di bappè ha fatto c'era le sette 39 anni in bappè 25 ma hai capito com'è capito com'è capito com'è però voi un ne fate i video conto che sai perché o siete malati psicologicamente non capite niente non capite niente chi fa i video conto c'era le sette caccio zero c'era le sette deve essere una filosofia di vita per quanto riguarda i bambini ma io voglio c'era le sette come santo nelle scuole calcio prima dopo vuoi mettere tutti chi la messi mara tutto se dopo attina la prima domanda non per maradona perché maradona è stato lì dicendo maradona ma davanti fu più forte c'era sette disse maradona a livello di gol perché poi sai cosa è maradona si è ritratto pure giovane capito però per me è stato maradona e per lei sono stati la più forte però come contano il gol che ha fatto il gol più più gol al mondo usato fu c'era sette quindi quindi voi non siete voi siete nulla cosa siete a gualla del mio cazzo siete a gualla del caccio siete la gualla del caccio proprio non dovete proprio parlare di c'era sette non capite niente la gente vi spende per il culo pure vi spende per il culo non lo capisci perché se mente capito i guendini che dicono vuoi l'acqua c'era i sette c'è il madre la juventus no ma quello che ci potevamo fare alla fine noi siamo tifosi mica io ero contento che c'era i sette venne a juventus tutti quanti i stessi guendini contenti brava agnelli porta una volta non è più brava agnelli capito chissà perché il motivo ma ripeto dice vabbè i guendini che dico giustamente ma è stato il madre la juventus perché giustamente dice ma io con 200 milioni mi faceva squadra e lì ci posso anche dare ragione ma solo per quel fattore qua per quel fattore là ma noci tutti quanti guardate ripeto io vorrei all'undicesimo minuto vorrei undici sette nella mia juventus a livello di professionalità a livello di umanità a livello di a livello di vuole sfidare se io capito però ad oggi davanti ad oggi davanti a me c'era i sette ma è finito messi 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 che era finito che messi era finito ancora prima c'era i sette capito e chissà imbappé turam chissà che sono top play fenomeni alieni ma quando ma ma quando ma chissà qua 10 anni fa faceva una panchina addirittura per me non erano ma anche convocati quando c'erano veramente veramente i giocatori top sta top play ragazzi vi saluto ripeto chi ama il caccio ama cr7 e basta il giocatore più forte al mondo ciao grazie a tutti